Eleonora, Iole, Sharon, Giulia, Due Agnese, grazie, grazie, pure la banda musicale, l'orchestra, buonasera Maestro Nigro, l'orchestra di affari tuoi che speriamo ci sia il prossimo anno, Beato Giccianocchio, la prossima stagione, ma adesso pensiamo a lei, gioca l'Emilia Romagna, gioca Lucia, Lucia Guidi, Guidi tu, brava stasera Guidi tu, Lucia che nasce, vive ad Anzola dell'Emilia, ma lavora a Bologna, anche il marito lavora a Bologna, no, lavora a Anzola, sì, sei italiana, sì, sì, sposata con Giacomo, due figlie, vuoi cambiare il numero 19? No, vuole cambiare, vuoi chiamare il primo banco? Lo chiami dopo la pubblicità, ciao, buoni di voi!